Benvenuto al Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Diamo il tempo di entrare. Buonasera, Signor Ministro. Buonasera. Benvenuto, grazie. Grazie. Grazie mille. Allora, il Ministro è tornato oggi dalla Germania, dove a Rammstein c'è stato un importantissimo incontro della Nato, un summit della Nato. Per esempio, verranno destinati ancora aiuti, se dico bene no, e armi per l'Ucraina, ma il governo tedesco ha deciso al momento di non dare i carri armati Leopard. Chieva ha replicato che il no tedesco è un no pesante, che anzi hanno detto ci uccide. Si attende questa offensiva russa di primavera. Il Cremlino prepara una difesa aerea di Mosca addirittura, la Corea del Nord fornisce armi, almeno così pare, ai mercenari della Wagner. Insomma, sembra che ci stiamo avviando verso una situazione, se possibile, ancora peggiore di quella che abbiamo conosciuto. È un'evoluzione della situazione che abbiamo conosciuto, in realtà. Un'evoluzione che in parte ci aspettavamo quando Putin ha, voi vi ricordate, ha iniziato questo reclutamento che l'ha portato a prendere 300.000 giovani che sta formando. Non l'ha fatto perché pensava di rinforzarsi in patria. L'ha fatto perché ha reclutato 300.000 persone che una volta formate voleva schierare tutte sul fronte ucraino. E questo cosa voleva dire? Che aveva in testa di continuare quello che aveva iniziato un anno fa, 11 mesi fa, e non era riuscito a portare a termine. Quindi quello che ci si aspetta è un aumento degli scontri via terra, con l'iniezione di queste persone e di tutti i mezzi terrestri che non aveva ancora impiegato, e il tentativo di risfondare in Ucraina. Di fronte a questo è cambiato l'atteggiamento anche ucraino, che fino a qualche settimana fa, voi vi ricordate, chiedeva sostanzialmente una difesa dagli attacchi missilistici, perché la Russia era arrivata a attaccare le infrastrutture civili. Aveva cambiato tattica, aveva cercato quello che non aveva riuscito a ottenere dal punto di vista militare, cercava di ottenerlo sulla psicologia degli ucraini, distruggendo le centrali termiche, elettriche, portando un inverno drammatico per i cittadini. Buio, senza luce. E cercando di provocare un esodo di massa verso i paesi europei, portando milioni di persone nei paesi vicini. Sì. E in qualche modo quindi andando a decidere anche nelle opinioni pubbliche dei paesi vicini. L'economia e quindi le opinioni pubbliche dei paesi. Quella tattica è cambiata repentinamente, si è unita a quella terrestre e l'Ucraina sta chiedendo aiuto. D'altronde, se noi fossimo nella condizione dell'Ucraina e ci rendessimo conto che quello che si pensava essere scongiurato, cioè un pesantissimo attacco terrestre, può riprendere tra una settimana, due, un mese, due, cosa faremmo? Quello che stanno facendo loro è chiedere aiuto. In questa riunione a Reimstein, che non è una riunione della Nato, noi in Italia scrivevamo sui giornali della Nato, la Nato formalmente non è coinvolta. Ha fatto molta attenzione, guardate, è un fatto che bisogna sottolineare, e la Nato ha fatto molta attenzione a non essere mai coinvolta in modo formale. Ci sono paesi che fanno parte della Nato e altri che non ne fanno parte, ma la Nato ha sempre voluto stare formalmente fuori per non accettare quello che la Russia ha detto, è uno scontro fra Nato e Russia. Proprio per non accendere ulteriori micce, ed è quello che secondo me bisogna continuare a fare. Il dialogo, oltre a aiutare le persone che in questo momento sono quelle che rischiano di morire e di vedere il loro paese completamente travolto dall'avanzata russa. I tedeschi... Questi carri armati leopard... Sì, i tedeschi, anche qua, io normalmente ho rispetto, quando parlo di un'altra nazione è lo stesso che richiedo per meno. Per cui questo fatto che ci sia tutto il mondo che critica i tedeschi, li attacca, pretende che i tedeschi facciano scelte. Ogni paese è autonomo, ogni nazione ha una maggioranza di governo che è stata eletta. L'attuale maggioranza di governo tedesca era stata eletta sostanzialmente per tagliare completamente le spese della difesa. si è trovata a fare il maggior aumento di spese che la Germania abbia mai fatto negli ultimi 70 anni. Una maggioranza socialista, verde, oltre che liberale. Quindi io capisco le difficoltà di Scholz e trovo assurdo che le altre nazioni facciano pressioni. Ogni paese ha una maturazione politica. Io sono convinto che alla fine la Germania farà quello che deve fare nel modo in cui riterrà giusto farlo. Cambierà idea, dice lei. Guardi, tutti vogliamo la pace e tutti sappiamo che bisogna arrivare a un tavolo per la pace. In questo momento, chi ha costretto le nazioni a non dedicare la maggior parte dell'energia alla pace, ma dedicare magari le energie per aiutare a difendersi gli ucraini, è stato l'atteggiamento russo negli ultimi due o tre mesi, che è peggiorato. Noi avevamo sperato a un certo punto che ci fosse un cambio, no? E che si potesse sedere, si potesse partire da una base di ragionamento. Ma alla fine probabilmente Putin ha capito che non poteva cedere e deve andare avanti. Purtroppo andrà. Signor Ministro, per quel che riguarda il governo italiano, lei, che è formato da forze molto diverse al suo interno, lei si aspetta un sostegno univoco all'Ucraina o pensa, teme, non so, il verbo lo scelga lei, che ci possano invece essere delle divisioni? No, io penso che le cose vanno spiegate e condivise. Vengo tirato per i capelli che non ho molto spesso nei giornali, no? Come mai non avete fatto il sesto decreto? Le cose vanno fatte a tempo debito quando si possono fare. Noi abbiamo ragionato in questi mesi un sesto decreto che aveva un solo obiettivo, quello di aiutare gli ucraini a difendersi dagli attacchi missilistici che stavano distruggendo le popolazioni civili, gli ospedali, le loro centraie termiche e elettriche. Quindi il sesto decreto che è in preparazione... Ci sarà, quindi, sì. Che ci sarà e penso sarà condiviso da quasi tutto il Parlamento, maggioranza e opposizione, sarà un decreto che contiene, che dà agli ucraini la possibilità di difendersi da questi attacchi aerei. Noi non siamo stati interpellati per quanto riguarda... Che tradotto vuol dire missili? Vuol dire missili che abbattano altri missili. Certo. L'Ucraina è arrivano missili che distruggono le mie case, le mie scuole, le mie cose, c'è qualcosa che li deve fermare. Esatto. E la premiera... Ci sono proprio dei sistemi che hanno questo scopo, nascono per fermare gli attacchi missilistici. Stavo pensando che lei si è molto arrabbiato quando sono state espresse perplessità sul fatto che lei facesse il ministro della difesa, no? Perché lei ha presieduto la federazione delle aziende che si occupano di aerospazio, di difesa, insomma, di sicurezza. Ma lei, però, non è che poteva non aspettarselo, no? No, io mi sapevo aspettarci. Quando mi ha chiamato... Anzi, faccio un'altra domanda. Ha avuto dubbi sulla centrale l'incarico? Guardi, non ho avuto dubbi perché quando un presidente del Consiglio incaricato ti offre l'occasione di servire il tuo Paese, tu devi essere anche disposto a sacrificare quello che hai costruito con difficoltà negli ultimi 12 anni. Traducco vuol dire... Significa che per me è stato un sacrificio economico pesantissimo. Un anno molto meno adesso di prima. Pesantissimo, ma un onore molto più grande che non mi sarei mai aspettato di ricoprire nella mia vita. Però si aspettava le critiche, sì. Sì, ma sono durato una settimana, quindi va bene così. Senta, Giorgia Meloni è attesa a Kiev. Ci sono novità sulla data? Se anche la sapessi non glielo direi. Io ci ho provato, l'ho buttata e l'ho detto magari me la dice. Ma diciamo imminente, secondo lei? Ma per carità, Fazio, con tutto rispetto. No, imminente non vuol dire domani, cioè vuol dire... E in programma, magari in futuro. Dunque, il mercoledì, se non sbaglio, il ministro degli esteri russo, Lavrov, ha detto di essersi stupito di vedere l'Italia nel fronte antirusso per le eccellenti relazioni che avevano contraddistinto i rapporti fra Russia e Italia negli ultimi decenni. E dice che non riesce a vedere l'Italia come gente che costruisce armi, barriere, ma che l'atteggiamento è stato imposto dall'Europa. Allora, lui ha ragione quando dice che l'Italia e gli italiani non sono un popolo che costruisce barriere. Ha ragione quando dice che noi abbiamo sempre rispettato e voluto bene ai russi e agli ucraini. Gli abbiamo sempre raccolti. Il problema è che noi non abbiamo costruito un fronte antirusso. Noi siamo andati ad aiutare un paese che la Russia ha invaso. Per cui noi facendo questo l'abbiamo fatto con la difficoltà con cui si prendono scelte di questo tipo. Guardi che la consapevolezza che tu stai aiutando un paese e fornendogli armi ce l'ha questo governo, ce l'aveva quello prima. Ma noi abbiamo dovuto dare un giudizio su un fatto che accadeva. Il fatto che accadeva era che una nazione, che ha ragione lei? Ce le sono le foto con Putin di tutti i presidenti del Consiglio che ci sono succeduti in Italia. Una nazione che fino a qualche anno fa era una nazione amica con cui collaboravamo, con cui prendevamo il 40% del nostro caso. Improvvisamente ha compiuto un atto che ci ha costretto non a prendere posizione contro lei, ma ad aiutare un aggredito a difendere i propri cittadini, la propria integrità territoriale, i propri bambini, le proprie scuole, i propri ospedali. È stata una scelta difficile ed è difficile ogni giorno. Per quello, come le dicevo prima, noi useremo questa cosa che ha detto Lavrov, cioè la stima che questo popolo e questa nazione, non questo governo, questa nazione, si è guadagnata nei secoli per cercare di costruire il tavolo a cui far sedere i contendenti. Ma nel frattempo, il giudizio che diamo sull'atto della Russia è duro e inequivocabile. Avete attaccato una libera nazione, dobbiamo aiutarla a difenderci. Ministro, torniamo un attimo all'arresto di Matteo Messina Denaro. Lei ha parlato di colpo durissimo alla mafia, ha rivolto complimenti, a cui se permette aggiungiamo anche i nostri, insomma, alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla magistratura. Lei quando ha saputo della cattura? Come ha seguito l'operazione? Era al mio ufficio, ha squillato il telefono, una delle cose, adesso racconto una cosa un po' divertente, il ministro della difesa, poi non so come siano gli altri ministeri, ha un telefono dove ci sono dei pulsanti che tu schiacci, sei direttamente collegato col comandante generale dell'arma dei carabinieri, il capo di Stato Maggiore della Difesa. Ha squillato il numero del comandante generale, ho risposto pensando... C'è comandante Luzzi? Comandante Luzzi, che mi ha detto di salutarla, perché è stato a Savona, di conoscere dai tempi di Savona. Quindi è squillato, pensavo fosse una comunicazione che ci sentiamo più volte al giorno, e mi ha detto... Aveva la voce emozionata, e mi ha detto i carabinieri del ROS hanno catturato Messina Denaro. Aveva la voce commossa, siamo stati zitti tre, quattro secondi, e ho detto ma è una cosa straordinaria, e poi anch'io l'ho commosso. E poi gli ho fatto i complimenti, poi ho staccato il telefono, ho preso il mio telefono, ho mandato un messaggio al Presidente del Consiglio, in cui gli ho scritto... I carabinieri hanno catturato Matteo Messina Denaro. E poi mi sono guardato ed ero commosso e soddisfatto, non per il governo. Anche perché queste operazioni sono decenni che va avanti. Per lo Stato. aveva messo un altro piccolo tassello nella lotta che non finirà mai tra il bene e il male. Ma era un tassello fondamentale, perché era un tassello simbolico, perché ho pensato al lavoro di quelle migliaia di persone, non solo i carabinieri del ROS, i carabinieri del territoriale, i poliziotti, i finanzieri, tutti quelli che in questi anni, che noi non conosciamo, di cui noi non sappiamo nome, cognome, nulla, in questi anni hanno costruito le condizioni per arrivare a questa cattura. Ministro, ma... Ma facendo anche altro, ecco. Perché non è che abbiamo catturato 30 anni fa a Riina e adesso siamo... In mezzo abbiamo catturato migliaia di persone. Ha sentito cosa dicevo prima con quei giornalisti. nel senso che il complottismo non fa parte, diciamo, di questa trasmissione, eccetera. Chiedo anche a lei, ma ci sono delle cose che dobbiamo ancora capire e chiarire? E soprattutto, secondo lei, questa zona grigia di persone che certamente hanno protetto a casa sua, no? Messina Denaro. Insomma, diciamo così, lei crede nella buona fede o crede invece, più probabilmente, che ci sia una zona grigia che è un problema innanzitutto culturale? Ecco, quando si arriva a fare un selfie, come quello che stiamo vedendo qua, no? Di Messina Denaro nella clinica. Cioè, lei pensa che ci sia qualcosa di più? Ma, guardi, è chiaro, c'è una parola che noi usiamo da sempre che si chiama omertà. Omertà può dipendere da molti motivi. Sono omertoso perché collaboro con i mafiosi oppure sono omertoso per paura. E noi abbiamo zone del Paese in cui esiste la paura. Io ho fatto il sindaco da giovane in un piccolo comune e nessuno è mai venuto a dirmi se non fai questo uccido i tuoi figli. E quindi è stato facile per me essere coraggioso. Mi chiedo e chiedo se tu fossi in un comune come ce ne sono alcuni, no? All'altissima intensità criminale in Calabria, in Campania, in Sicilia e venissero a minacciare la tua famiglia, quanti sarebbero coraggiosi? Per cui giudicata dagli studi televisivi, dalle nostre case, è lì che infatti che deve esserci e quella è la zona grigia. È lì che deve esserci lo Stato. Cioè, la zona grigia è il fatto che queste organizzazioni sono potenti, la mafia di meno rispetto a una volta perché i colpi inferti sono stati moltissimi, lo è più ultimamente l'endrangheta, l'endrangheta, ma che esercitano in alcuni territori una pressione che una persona normale non può superare. Per cui c'è questo. Ma io escludo invece qualunque altro tipo di zona grigia perché c'è stato qualcuno che ha detto c'è stata una trattativa e nessuna trattativa. Tanto più quelle cose che qualcuno ha ipotizzato di questa ipotetica trattativa l'argastolo stativo, pene minore, questo governo anzi ha fatto il contrario. È stato durissimo e anche questo è un segnale importante. Senta, io so che lei è una persona schietta e sincera, quindi affrontiamo un tema altrettanto sincero. Noi abbiamo gioito tutti per la cattura di Messina Denaro, però posso dire per coerenza lei non crede che sarebbe anche forse il caso adesso di prescindendo naturalmente dalla presunzione di innocenza che i partiti la smettessero di avere nelle loro liste chi più chi meno pregiudicati, indagati. Cioè un mese fa è stato condannato in via definitiva a sei anni di reclusione l'ex sottosegretario di Forza Italia Antonio Dalì per concorso esterno in associazione mafiosa lui è stato sottosegretario degli interni. Cioè ora quando Piantedosi dice no la politica oggi è imparato non ci sono più collusioni ma insomma è un impegno importante guardi tenere i partiti al di fuori della possibilità delle organizzazioni criminali o dei banditi tradizionali di infiltrarsi ma c'è una questione di opportunità ma no c'è una questione di opportunità sono il primo cancro dei partiti perché sono quelli che distruggono che distruggono la credibilità dei partiti come lei sa ci sono partiti molto duri quando scoprono che qualcuno che si è iscritto che c'è stato è stato vicino o anche solo è stato accusato il più duro di tutti in questi anni è stato sicuramente il partito di Giorgio Meloni da questo punto di vista insomma guardi non mancano di nessun partito no non mancano e tutti reagiscono allo stesso modo li cacciano fuori ripeto ci sono zone in cui è molto difficile selezionare classe dirigente di cui fidarsi al 100% senta ministro nelle ultime settimane appunto ci sono emerse queste tensioni nella maggioranza sul caro carburanti e anche sulla giustizia no Giorgio Meloni ha parlato di bastoni tra le ruote non sono dall'opposizione e quindi le chiedo lei teme più l'opposizione esterna o l'opposizione interna al governo ma guari io non temo l'opposizione perché quando l'opposizione ti aiuta a non fare errori ti fa vedere che hai sbagliato qualcosa ben venga io temo il fatto di fermarsi troppo a discutere quando sei convinto di avere ragione uso l'esempio di Nordio Carlo Nordio è una persona stimata da tutti che sta dicendo delle cose che la maggior parte delle persone condividono si passa il tempo a prendere le sue parole e cercare di stravolgerle prima Claudio Cerasa è stato molto corretto l'ordine non ha mai detto no alle intercettazioni dice se io intercetto Fazio e Fazio dice una cosa che è un reato e quello me la trovo collegato al motivo per cui l'arresto è giusto che io la legga sul giornale ma se Fazio mentre parla di altre cose si lamenta del suo rapporto con la moglie o del suo vicino di casa o dice delle cose su un'altra persona famosa che non hanno alcune se anche non le pubblichiamo facciamo un servizio al paese la democrazia e la giustizia che mi pare abbia totalmente senso senta il discorso che facevamo anche lì poc'anzi rispetto alle autonomie la Lega insiste molto per portarla a casa nel 2023 diciamo Fini addirittura ha avvertito metteremo a rischio l'internazionale diciamo che Fratelli d'Italia viene da una tradizione politica molto diversa da quella autonomista ecco lei poi siccome nel governo bisogna comporre anche le esigenze di tutti ma lei pensa diciamo così che gli elettori di Fratelli d'Italia approverebbero una riforma in senso autonomista Cuperlo oggi uno dei candidati alla segretaria del PD ha detto la Lega vuole accentuare le ingiustizie pronti alle barricate quindi l'opposizione è chiara sì io leggo ho letto un sacco di commenti sul disegno di legge di Calderoli che dimostrano che nessuno l'ha letto e lei è tranquillo insomma non è che sono tranquillo l'ho letto e siccome l'ho letto una cosa molto semplice che intanto c'è una Costituzione a rispettare per cui oggi leggevo non faccio nome il segretario del partito dice no verrà dato questo alle regioni questo no quello che puoi dare o no lo definisce la Costituzione quindi un disegno di legge non può cambiare la Costituzione primo secondo non ci sono nessuna risorsa risorsa viene tolta a nessuna regione altra cosa che invece legge terzo si fa un discorso in cui si dicono ci sono dei livelli minimi quelli di cui parlavamo prima che ogni regione deve dare ai propri cittadini e ci sono dei costi standard cioè faccio un esempio la media del costo di un appendicite è x dovrebbe essere x in tutte le regioni questa cosa semmai aiuta le regioni dove non c'è il servizio dico scusa ma se tu hai la stessa cifra per abitante che ha Brescia perché non riesci a dare uso non vado a Cuneo con gli stessi soldi gli stessi servizi spiegamelo e questo secondo me è l'unico modo di mettere in concorrenza ad esempio un servizio importante come quello sanitario in modo positivo dire perché quella regione quella provincia quell'asl a parità dei tuoi trasferimenti riesce a fare dieci tipi di interventi a un ospedale efficiente e tu no? quindi non è preoccupato diciamo da questo punto di vista sulla riforma in senso secondo lei qualcuno potrebbe fare una riforma scusi che danneggia la parte più debole abbiamo visto di tutto diciamo non ci stupiremmo di nulla non ci stupiremmo di nulla ma guarda io le dico una cosa non esiste questo paese esce dalle difficoltà che ha se riprende a ricostruire ricchezza e crescere la parte che più di tutte deve e può ricostruire ricchezza è il sud perché lei in Veneto la ricchezza può aumentarla ancora del 10% la capacità industriale può aumentarla ancora del 10% e poi è finito parlo negli anni c'è una parte del nostro paese che non è cresciuta dove mancano gli investimenti dove manca il lavoro per cui quella è la parte che ci aiuterà a uscire dalle difficoltà economiche se l'aiuteremo in modo serio intelligente faccio un'ultima domanda lei ha militato per molti anni nella democrazia cristiana poi è stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia molti era un bambino molti da bambino no alcuni anni sì sì un bambino che al pomeriggio ero già grande grosso un grande bambino che militava nella democrazia cristiana poi fondatore di Fratelli d'Italia ecco diciamo così le mosse le prime mosse di questo governo di questo nuovo governo sono state diciamo identitarie le abbiamo definite non so se insomma le condivida ma comunque i rave le ONG sbarcare più lontano possibile diciamo la russa ha fatto l'elogio del movimento sociale diciamo qualche giorno fa sul quale potremo a lungo discutere insomma ecco lei non trova che ci sia uno sguardo eccessivamente rivolto al passato piuttosto che alla costruzione di una destra moderna cioè di un partito conservatore che potrebbe fare tranquillamente a meno di riti iniziatici di tanto tempo fa e anche diciamo con ricordi poco gradevoli insomma uno dei vantaggi è essere uno dei fondatori di Fratelli d'Italia che parlo tutti i giorni con Giorgio Meloni e siccome questo percorso l'abbiamo costruito insieme io so perfettamente cosa lei ha in mente e lei ha in mente di aiutare questo paese a crescere ma aumentando la possibilità che ha chi ha voglia di lavorare di lavorare diminuendo le disuguaglianze cercando di aiutare la parte più debole ma consentire alla parte più forte che è quella che fa impresa crea lavoro crea ricchezza di muoversi piacevolmente cioè è una destra che si è evoluta lei è la presidente dei conservatori europei ma ben chiaro non c'è nulla di riguardo al passato ci sono dei valori a cui uno si vuole richiamare la vicinanza Orban ecco diciamo così ma guardi che la vicinanza Orban io le vorrei far dire dalle istituzioni europee quanto è servita l'Europa la sua credibilità con Orban o la Polonia per sbloccare alcune partite europee che erano bloccate da un anno e mezzo i primi a fare i complimenti a Giorgia Meloni per il suo intervento in Europa ha sbloccato alcune cose ferme da un anno e mezzo mettendo sul piatto la credibilità che aveva con quei due paesi e consentendo alla Von der Leyen e alla Mezzuola di raggiungere risultati che non avrebbero raggiunti noi molto non siamo capaci di raccontare anche le parti positive nostre vale per tutti e non vale per Giorgia Meloni vale per Conte vale per Renzi vale per... noi siamo abituati che se siamo dall'altra parte dobbiamo sempre buttare fango su qualcuno che non è della nostra no, questo governo a livello internazionale e a livello nazionale sta facendo delle cose importanti poi può aver fatto come tutti qualche scivolone sì ci sarà qualcuno nella maggioranza che magari si becca un po' di più quando c'è un'elezione importante come quella verso Andra può succedere tutto ma mi pare che la linea sia unica e il Presidente del Consiglio abbia ben chiaro il percorso e stia tenendo le reti in mano grazie Grazie a lei Arrivederci Filippa